Anche il settore giovanile della Teramo Calcio è già in piena attività, alle nostre spalle si sta preparando la berrette e poi partiranno gli under. Lei è qui da un paio di settimane, che situazione ha trovato? La situazione che mi aspettavo, con riconoscenza assoluta e stima assoluta per tutte le persone che mi hanno preceduto, che hanno lavorato nel Teramo e che in condizioni sicuramente non semplici hanno dato tutto quello che era nelle loro corde e nelle loro possibilità. Visto che la berrette si sta già allenando, possiamo elencare i nomi dei tecnici di questo settore giovanile del Teramo? Allora, l'allenatore è Marco Stella, il suo collaboratore è Federico Terrenzi, il preparatore atletico è Paolo Malandra, il preparatore dei portieri è Diego Di Bonifacio, il nostro fisioterapista è Carmine Minichini. E quindi lo staff della berrette in pratica è completato ed è già al lavoro da lunedì. È chiaro che adesso, oltre alla normale parte organica, tecnico-tattica, cerchiamo di svolgere qualche seduta anche per provare alcuni ragazzi per mettere su un organico più congruo, perché per arrivare numericamente a questo organico abbiamo dovuto inserire ben sette allievi, che da un punto di vista tecnico è qualcosa di importante e che ci distingue anche rispetto a tante altre squadre, perché saranno presenti nella squadra Berretti 2, 3, anche 4, 2003, che spesso saranno anche tra gli 11 titolari. Da altri punti di vista, quindi significa che nel 2003, quindi con la squadra Under 17, la coperta sarà corta e magari avremo meno elementi in quell'altro ambito, che cercheremo in questo mese ancora di, che abbiamo a disposizione per i vari tesseramenti, di poter utilizzare per mettere su comunque i due gruppi da un punto di vista della congruità anche numerica. Per quanto riguarda invece la scuola Calcio Teramo, come verrà strutturata? Voi avete detto puntiamo a grandi numeri, perché così sarà anche più facile individuare i campioni del futuro. Ma scuola Calcio Teramo, il Presidente ci ha ufficializzato questa novità, che solo, voglio dire, non cambia nulla, anzi deve avvicinare tutte le altre realtà che dovranno avere, credo, la voglia di lavorare in sinergia per cercare di portare prima possibile, più possibile, dei ragazzi ad avvicinarsi alla prima squadra, perché soltanto con un bacino d'utenza largo, è chiaro, c'è maggiore possibilità di andare a scovare dei potenziali talenti che poi i nostri formatori dovranno essere bravi, avere le caratteristiche corrette per cercare di esaltarne poi le qualità che madre natura magari ha dato loro. Quindi quello che dovrà essere il nostro lavoro nelle prossime settimane, appena usciremo un po' da questo mese di fuoco, dove è chiaro che c'è da far partire le quattro squadre che sono Berretti, Under 17, Under 15 e Under 14, è quello proprio di riallacciare a tavolino questi rapporti, o di allacciarli meglio laddove già esistono, proprio perché indipendentemente che il Presidente abbia la voglia di avere una propria scuola Calcio Teramo, questo deve avvicinarci e non dividere, per cui credo che ci sarà spazio per tanti, per tutti, per sentirsi non della società magari del proprio paese o di altra società con nome importante ma diverso, ma di sentirsi proprio protagonisti all'interno della Teramo Calcio.